Buongiorno e buon lunedì! Allora inizio la mia mattinata con una bellissima beauty routine con i miei prodotti preferiti di Hello Body, sapete che io li adoro tra l'altro è un po' che mi chiedete il codice sconto, è vero, non ve l'ho più dato quindi ne approfitto per questo video per darvi un codice sconto che vi lascio come sempre qui nell'info box e con un minimo di spesa di 79 euro avrete il 50% di sconto più una maschera in regalo a scelta tra Coco Wow, Rosa Refine e Coco Claire vi lascio comunque il link nell'info box così potete utilizzare il mio codice sconto che è HOMEMOCK Ciao! 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 venerdì, siamo partiti, ho avuto una giornata intensa, sono uscita a lavorare, sono andata a fare le unghie perché dovevo assolutamente risistemarle, sono arrivata a casa, ho dovuto preparare la valigia perché dovevamo partire verso le sette e mezza, non ce l'abbiamo fatta, siamo partiti alle otte e mezza, capite che dovevamo andare a Bologna, quindi sono più o meno due ore di strada, avevamo paura di non riuscire ad essere a Bologna per le 11 che c'era il coprifuoco, quindi ho fatto tutto di fretta e sono arrivata a Bologna così, credevo di morire perché facendo tutto di fretta, poi io mi devo organizzare, devo sapere cosa portare, devo preparare psicologicamente, in realtà così ho fatto tutto un po' alla vala che vai bene, però weekend stupendo, domenica in realtà non sono riuscita a caricare il video perché l'avevo, ho girato qualcosa a Bologna ma non sono riuscita a caricarlo perché abbiamo trovato due incidenti in autostrada, siamo arrivati a casa tardissimo ed ero molto 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 stanca, quindi non sono riuscita a farvi uscire il video domenica e ve lo farò uscire stasera, probabilmente vi faccio uscire un video stasera e vi faccio uscire un video anche domani, così recuperiamo la settimana, vediamo, magari cerco di recuperare i due vlog proprio tutti, tutti e due durante la settimana, quindi dovrò praticamente girare tutti i giorni, mi sa, vediamo cosa riesco a fare, allora è stato un weekend bellissimo ma vi voglio lasciare qua un piccolo spezzone del weekend perché merita, quindi vi lascio qua il video. Ore 10 e 26, noi siamo praticamente arrivati, manca 7 minuti, vediamo, ho detto a Mauro di tenermi la telecamera così vi faccio vedere la sorpresa della palla. no, lì è bevito, non vedi giù, 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 ben entupo, manca 6 minuti, dei retormenti,すltre inозможно che accanto c'è? ecc...... belline domani... chi è? chi è? chi è? senti, non piange ragazzi man prego Ma che cosa fai? Ma che cosa fai? Ma che cosa fai? Chi è giovane? Chi è giovane? Chi è giovane? Fanno togliere sta... Ma chi è? Ma che ci fai? Ma che ci fai? Buongiorno, sono in una casa speciale perché sono a casa di Elisa e Dani Il nostro corso Il nostro corso Il nostro corso Il nostro corso Grazie a tutti. Abbiamo potuto lasciare qualche pezzettone del nostro weekend a Bologna, è stato un weekend, non dico improvvisato perché l'ho organizzato con Dani, volevamo già andare tempo fa, poi non avevano riaperto le regioni e quindi abbiamo posticipato, abbiamo poi posticipato a una data che poi non è stata quella perché Ale voleva festeggiare in famiglia il compleanno di Pietro Enea e allora l'abbiamo rimandato a questo weekend qua, nella speranza che ci fosse il sole e ci è andata bene perché allora sabato non era bellissimo ma almeno non ha piovuto, ha tenuto molto botta il tempo. Ecco, ieri invece era una giornata stupenda, una giornata caldissima, è stato proprio un weekend meraviglioso, loro sono comunque persone speciali, persone che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita e auguro a tutti di incontrare comunque persone come loro perché sono splendide, veramente splendide e penso che la Eli sia per me un regalo arrivato nel momento giusto, ve l'ho raccontato tante volte questa cosa quindi credo sia proprio il segno del destino. Quindi siamo amiche amiche, quindi io auguro veramente a tutti un'amica come lei, anzi no perché è mia e mia quindi no, è una ragazza dolce, una ragazza sensibile, una ragazza simpaticissima, una ragazza molto solare, una ragazza buona, sempre una parola buona per tutti, non l'ho mai sentita parlare male di nessuno, non l'ho mai sentita fomentare, cioè anche con me è sempre stata molto, mi è sempre fatta ragionare, mi è sempre fatta contare fino a 100, quindi quelle persone proprio veramente buone. Ma devo dire che in amicizia io sono molto fortunata perché vicino a me persone veramente belle, la sere, la marti, la filo, chiaretta, persone veramente che ci sentiamo, che andiamo proprio d'accordo, siamo persone comunque semplici, sono molto fortunata, molto fortunata. E questo weekend mi ha lasciato tanto, questo weekend mi ha lasciato veramente tantissimo, ne avevo bisogno perché sto attraversando un periodo molto molto complicato, molto molto difficile e quindi avevo bisogno di loro, non voglio dire solo di lei ma di loro, di Dani, di Emily, proprio di loro come famiglia. E quindi ci ha fatto piacere passare del tempo con loro, ne aveva bisogno anche Mauro perché Mauro non è uno molto espansivo, però era già un po' di tempo che mi diceva perché non andiamo a Bologna, perché non andiamo a Bologna, perché non andiamo a Bologna, poi comunque anche lui si trova molto bene con Dani, quindi abbiamo veramente preso e siamo partiti così. Così, così allo sbaraglio, lei non sapeva niente, come avete visto, infatti nonostante non sapesse niente è riuscita a farci fare il giro di Bologna in due giorni, però lei è così. Quando si va a Bologna si sa che non si sta fermi, un secondo. Siamo arrivati con la lingua per terra, no, però veramente pieni di... con un bagaglio veramente grande, veramente, veramente grande. Allora, adesso vado a lavorare e vi faccio adesso andando fuori vedere una cosa bellissima. Ecco cosa vi volevo far vedere, è spuntato l'altro banano, guardate un po' qui, è spuntato l'altro banano. E secondo me è un altro qua, adesso poi magari toglieremo i bulbi e li metteremo in altri vasi. Piove ha di rotto, sta piovendo tantissimo, vi faccio vedere, guardate un po', di rotto, di luvia, di luvia. Sono contenta solo per le mie sepi, perché almeno si bagnano bene bene, prendono tanta acqua, ma che noia. Quest'anno non riusciamo a goderci delle giornate belle di sole, sì, qualcuna così, ma giusto sempre durante la settimana però. Mamma mia, che brutto, che brutto, che brutto. Quest'anno tanta pioggia, cioè più che pioggia tanto tempo brutto. Freddo. Vabbè, vado a lavorare. Sono arrivata a casa in questo momento, devo svuotare la spesa. Ho comprato, vabbè, sono andata all'MD, ho comprato due o tre cose che mi mancavano. Mi mancavano i biscotti da far colazione, perché ma uno mangia le macine, ma a me non piacciono. Cerco di farcela tutte le volte, cerco di mangiarle, perché comunque ci sono e le mangio, ma non mi piacciono. Quindi sono andata all'MD, ho provato a prendere questi qua, che sono i biscottoni fatti così, classici. Quelli proprio per, da cucciare nel caffè latte, quelli che piacciono a me. Quindi ho preso questi qua. Diciamo che i miei preferiti, ormai chi mi segue da tanto lo sa, sono i fanni di stelle, ma siccome erano all'MD, non ci sono i fanni di stelle. Non li ho presi. Poi ho preso brioche croissant integrali, questi qua non so come siano, però proprio in caso di emergenza al mattino prendo questi. Poi ho preso le cravole. E poi ho preso queste qua, che sono delle cotolette di mare, che avevo già preso e ci erano piaciute tantissimo. Quindi le ho prese e stasera facciamo queste qua. Anche perché mi sono dimenticata di toglierle dalla borsa subito e quindi si sono già leggermente scongelate. E poi vabbè, ho preso questi qua, che sono dei dolcetti al cocco, perché io amo il cocco e quindi ho voluto provare questi qua. Adesso metto via tutto e poi vi voglio far vedere due o tre cose che ho acquistato invece da Ikea, sempre ieri a Bologna. Sono andata a prendere le cose che ho acquistato ieri da Ikea, non ho preso tanto, anche perché poi dovevamo partire, avevamo fretta, non riuscivo a concentrarmi. Quindi non ho preso tantissimo, diciamo che ho preso le cose che più o meno potevano servirmi. Allora, tovaglioli, perché quando si va da Ikea si può non prendere i tovaglioli? No, tovaglioli, pile, sacchettini, le classiche cose che si prendono da Ikea, poi io mi trovo benissimo con i loro tovaglioli. Quindi ne ho presi 100 di quelli di bianchi, ne ho presi 50 di questi qua verdone, perché poi volevo farvi vedere una cosa. Visto che domenica verrà qui la Marti con Marco e la piccolina, finalmente ci vediamo, volevo preparare una tavolina un po' particolare. Quindi ho preso i tovaglioli verdi, poi ho preso la palla, questa qui, non so se vi ricordate, l'avevo acquistata l'anno scorso e poi è arrivato un ventaccio quella sera che persino la mia vicina mi ha chiamato e mi ha detto Fede c'è la tua palla che sta ruotando e poi è volata persino fuori, si è proprio staccata, è volata in tutto il giardino e si è completamente rovinata. E quindi avevo poi pensato di riprenderla dal momento che sarei ritornata da Ikea in bella stagione. Quindi l'ho presa. L'unica cosa, l'unico mio dubbio è che questa qua è proprio quella grossa, grossa, grossa. Ho paura che quella che avevo prima era la via di mezzo, quindi quella media. Non lo so, devo, non mi ricordo assolutamente. Però vederla così mi sembra grossa, ma non importa. E poi ho preso due di questi cuscini, sapete che ormai sono in fissa con il verde salvia. Mi sembravano più verde salvia, in realtà, visti adesso a casa, sembrano più azzurrini. Vediamo se c'è scritto qualcosa. No, 70% cotone. No, non c'è scritto. Comunque, secondo me, sì, sono un menta misto tra azzurro, però bello, mi piace. Mi piace tanto, 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 tanto. Quindi lì andrò ad alternare a questi qua che ho, verdoni, che avevo preso da Maison du Monde perché tanto li voglio lavare e quindi li alternerò. Però voglio aspettare che mi arrivi il divano nuovo, anche perché ormai fra più o meno una decina di giorni arriverà il divano nuovo, quindi aspetto così. Metto questi qua, li lavo nel frattempo e poi li metto. Non mi ricordo se vi avevo poi detto del divano, ne avevo parlato solo su Instagram, non mi ricordo. Comunque avevamo poi scelto il divano, l'abbiamo scelto da poltrone e sofà. Quando sono entrata mi ha subito colpito quello lì, è quello che proprio mi ha colpito più in assoluto perché era in esposizione. Era un bellissimo colore, era un grigio con una punta di azzurro, bellissimo, di cotone. C'erano delle sedute di cotone, questo grigio azzurrino e delle sedute invece in microfibra sul beggiolino. Io quando l'ho visto me ne sono innamorata e alla fine, visto che ne ho visti tanti lì dentro, quello che mi piaceva di più era quello lì. E' proprio quello che ogni volta che giravo per vedere un po' di divani, sempre lì da poltrone e sofà, mi tornava alla mente quello lì in vetrina. E quindi niente, ho preso poi quello lì, vi lo farò vedere, non vi svederò niente, vi dico solo che l'ho preso in microfibra. Lo volevo in pelle, poi in realtà ho scelto la microfibra perché mi hanno detto che è molto resistente, si pulisce facilmente, va bene per chi ha animali. Poi si può lavare la lavatrice, si può anche pulire con un semplice panno umido, c'è un prodotto forse anche apposta e diciamo che ha la comodità della pelle ma l'eleganza o comunque il renderlo comunque caldo del tessuto. E' un po' un misto, va un po' incontro a chi ama la pelle e chi ama invece il tessuto. L'ho scelto bianco, 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 sapete che io amo il bianco, ahimè, amo il bianco. Poi secondo me nel mio contesto il bianco ci sta bene. In questo, con questo qua io ho sempre praticamente avuto il beige e non mi piace più perché sul pavimento già beige, non lo so, non mi convince. E quindi ho preferito prenderlo bianco in modo che poi gioco con tutti i cuscini e poi va a uniformarsi con il resto della stanza. Quindi mi piace, mi piace, mi piace. Voglio solo chiedervi un consiglio perché sto trivolando già da un po' di tempo. Devo capire cosa mettere là perché è una parete un po' particolare. Adesso c'è il Besta di Kea, dove noi prima avevamo ovviamente il televisore. Non lo vedo troppo spoglio, lo vedo un po' troppo, non lo so, tutta questa parete senza niente. Quindi avevo inizialmente pensato di mettere un tavolo, però poi ho cambiato idea perché abbiamo una cucina comunque grande, abitabile, con un bel tavolo. E quindi è assolutamente inutile. Allora ho pensato a una bella libreria alta che prenda tutta la parete e poi metterci qua, vedete, una poltrona che ho visto da Ikea. che ho messo prima, ve l'ho fatta vedere nel video, vi metto magari una foto così la vedete. E l'idea era quella di metterla qua, puntata, punti verso il divano, così quando viene qualcuno ci si può sedere. L'idea era quella. Oppure metterla, vediamo un attimo, però l'idea è di metterla proprio qui al lato divano, in modo che ci sia una seduta in più e che sia colorata, che dia un po' di importanza di colore alla stanza. Quindi l'idea è quella lì. Dal momento che metto quella poltrona, l'idea è quella di mettere o una bella libreria che prenda proprio tutta la parete o se no poter mettere magari una bella carta da parati con davanti magari qualcosa. Non lo so, a questo giro qua penso di farmi consigliare assolutamente dall'architetto perché non saprei proprio cosa mettere. Se voi avete dei consigli, datemi, sapete che siete e sono sempre ben accetti. Sto preparando la cena, avevo preso le cotolette di pesce, ma niente, l'ho messo in frigo e le faccio domani perché mi è venuto in mente, infatti Mauro mi ha anche scritto, che sua mamma ci ha preparato le lasagne tra l'altro le sto facendo qua, ci ha schizzato tutto, ci ha preparato le lasagne perché sapeva che andavamo a Bologna e nel caso in cui fossimo arrivate tardi c'erano le lasagne pronte. In realtà poi ieri sera ci siamo aggiustati semplicemente con del latte e dei biscotti, quindi non abbiamo cenato. Allora io nel frattempo ho fatto un sacco di lavatrici, ho sistemato un po' anche la lavanderia perché c'era un delirio pazzesco, veramente pazzesco e adesso volevo passare il tineco così sono a posto, anzi aspetto, lo passo stasera così almeno sono tranquilla, ho finito tutto e sistemo tutto. Ne approfitto per chiudere questo vlog perché è già abbastanza ringhino e siccome voglio farvene uscire uno anche domani non voglio tenervi troppo legati allo schermo, io vi saluto, grazie per essere state insieme a me anche oggi e ci vediamo poi domani sera con un nuovo vlog, ciao!